La città di Sulmona sarà chiamata nuovamente alle urne per il turno di ballottaggio e la scelta questa volta sarà tra il candidato di centrosinistra Gianfranco Di Piero, il quale al primo turno ha di poco superato il 39% delle preferenze, e il civismo con Andrea Gerosolimo, che ha invece ottenuto al primo turno il 34,32% dei voti. Il vero colpo di scena fino ad ora però è stato il clamoroso dietro fronte dell'ex assessore regionale Gerosolimo, il quale ha parlato nei giorni scorsi di campagna elettorale finita, aggiungendo, per quanto mi riguarda la coalizione di centrosinistra può iniziare a lavorare alla prossima giunta di Sulmona. Scelta arrivata forse anche a seguito del secco no ad un apparentamento da parte del centrodestra e del candidato sindaco Vittorio Masci, il quale ha dichiarato ufficialmente di non sostenere Gerosolimo in quanto scesi in campo come alternativa al civismo. Nonostante questa rinuncia i candidati consiglieri di Sulmona protagonista hanno deciso di andare avanti. Infatti i 112 componenti delle sette liste, forte degli oltre mille voti in più di Gianfranco Di Piero, invitano a votare il Gerosolimo. Va avanti deciso per la propria strada invece il candidato Gianfranco Di Piero, che in questi giorni, pur sapendo della scelta effettuata dal suo sfidante, ha continuato ad incontrare cittadini, le categorie e facendo manifestazioni pubbliche. Dopo l'entusiasmante risultato del primo turno, con il quale i cittadini hanno chiaramente manifestato l'esigenza di un profondo cambiamento, siamo tutti chiamati a portare a termine l'importante partita per il futuro di Sulmona. Il prossimo sindaco dovrà essere in grado, con il decisivo sostegno delle forze politiche e di governo, di trasformare una città in declino in una città dove vivibilità e benessere tornino ai tempi migliori.